buonasera a tutti buonasera bentornati qui sul mio canale 1936 solo io ancora con voi ragazzi era un po di giorni che non facevo video sul pescara stasera voglio parlare di una cosa che mi ha fatto letteralmente girare le scatole allora partiamo dal presupposto sto leggendo da un po di giorni notizie che riguardano luca storreira giocatore della sandoria ex pescara che passerebbe all'arsenal in inghilterra per 30 milioni di euro complimenti a sebastiani che ha fatto l'ennesima pinocchiata della sua grandiosa carriera qui a pescara perché perché noi abbiamo in pratica regalato un campioncino alla sandoria parliamo di tre anni fa venduto semplicemente per 2 milioni di euro più il cartellino di fornasiera allora già all'epoca ci incazzammo tantissimo perché per noi tifosi biancazzurri è impossibile cedere un cristo di giocatore che ha fatto semplicemente due tre comparse in campo in prima squadra cioè è impossibile torreira quell'anno non venne schierato mai tranne se non nella penultima giornata da baroni ma solo perché eravamo veramente in emergenza al centrocampio lo fece giocare per forza e poi venne lanciato nella mischia da oddo che ebbe la convinzione di farlo giocare titolare oddo che già lo allenava nella primavera all'epoca quindi quell'anno lucas fece mi pare due o tre presenze fra campionato e poi playoff con quei famosi playoff che poi perdemmo nella famosa finale di bologna e in pratica venne venduto venne venduto all'istante subito per soli 2 milioni più il cartellino di fornasiera cosa che all'epoca però c'è passo non dico in secondo piano però ci fece rimanere un po' diciamo non contenti però neanche incazzati e il fatto che si sapeva che avevamo strappato alla sandoria una percentuale tipo il 20 per cento su un'eventuale rivendita di torreira cosa vengo a sapere ultimamente che questo 20 per cento in pratica aveva un massimale di un milione quindi in pratica se loro vendevano un giocatore a 70 60 50 150 milioni di euro il pescara al massimo questo 20 per cento se superava il milione il pescara prende un milione quindi tu caro presidente del pescara che vendi torreira alla sandoria ma come ti cade in mente di dare un massimale alla percentuale sull'eventuale cessione a sandoria cioè ma io dico ma se matti cioè io non lo riesco a spiegare cioè perché posso capire che tu all'epoca vendi verratti per quei famosi 14 milioni di euro al pari san germain ma ti danno 14 milioni di euro per un giocatore che non ha mai giocato in serie a ha fatto solo la serie b un anno e tu lo vendi e 14 milioni di euro non li rivedi più in tutta la tua storia del pescara ma quando ti vengono a offrire i soldi per un giocatore che ha fatto soltanto due presenze tre presenze nel campionato ma come cazzo fai a venderlo soltanto a 2 milioni di euro e poi farti dare il 20 per cento sull'eventuale rivendita ma con un massimale di un milione di euro ma è follia pura cioè qui o siamo scemi o cioè è follia pura perché poi l'altra sera in televisione sebastiani dice anche che purtroppo il pescara non può finanziarsi se non vendendo i propri campioncini man mano che escono fuori ma io sono d'accordo ma che progetto è questo cioè ma lo volevo fare almeno due anni tre anni al pescara come è stato fatto con brugman che è stato preso che aveva 18 anni all'epoca adesso deve 25 ma sono sei anni che sta al pescara e ha giocato tranne uno un anno e mezzo essere in prestito ma io dico vogliamo tenerli i campioncini vogliamo tenere queste persone che possono essere delle speranze per noi tifosi vogliamo farli sordire in prima squadra farli giocare in prima squadra farli crescere e poi vendere è possibile che dobbiamo vendere i giocatori sempre prima sempre prima come abbiamo fatto con pompetti 15 anni all'inter pompetti adesso è stato il giocatore migliore della primavera che ha vinto mi pare lo scudetto con l'inter pompetti e ce lo vorremmo riprendere in prestito ma se che cazzo me ne frega a me di riprendere pompetti in prestito a me dall'inter pompetti ma perché non ci ribuotevamo tenendo pompetti e giocavo col pescara e dopo lo vendiamo all'inter ma no scambiarlo così per quattro spicci gli soldi se posti ha la moneta fatale i soldi per la gente e oggi oltre alla cessione di torrera larsan e quindi questo milione di euro che entrerebbe nelle casse bianca azzurre senti senti cosa leggo che c'è il buyer monaco sulle tracce di un nostro ragazzino di 14 anni perché del 2004 mi pare si chiama mercato io non so chi sia sto ragazzino non l'ho mai visto non l'ho mai non ho avuto meno fortuna di vederlo non so neanche che ruolo fa che giocatore è non so nulla però pare che sia promettente su di lui ci siano anche altre squadre italiane e pare che il buyer monaco ci voglia dare 4 milioni di euro io non so se sia vera questa cosa non so se sia falsa spero che non sia così perché sennò già sono sicuro che purtroppo anche un ragazzino di 14 anni verrà venduto e sebastiani cosa dirà e ma non potremmo tarpare reale al ragazzino per il bene del pescara i genitori la ragazzina non si potrà tenere contro voglia e vendiamo un altro uno però siamo solano a fare sto discorso quindi io spero che le cose cambino spero che non si commettano più errori come questo di torrera perché è un grandissimo errore aver venduto torrera e quindi spero che il pescara riesca a crescere i propri ragazzi farli giocare valorizzare e poi vendere e farsi pagare sti cavolo di soldi cacciate i soldi per darci per prendervi i giocatori del pescara do che quando dobbiamo comprare noi i giocatori dalle altre squadre sembrano che sono tutti quanti fenomeni e costano un botto e quando rivendiamo noi invece ci danno due spicci e sebastiani subito li da via li butta vai 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 vabbè ragazzi io adesso vi saluto vi lascio vi auguro una buona serata mi raccomando commentate fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti condividete il video lasciate i like se non l'avete fatto iscrivetevi al canale vi lascio sempre il pulsante qui sotto con iscriviti cliccate sopra e vi iscrivete mi raccomando ci vediamo al prossimo episodio e sempre sempre forza per scala ciao a tutti ragazzi buona serata